Come era la situazione agosto l'anno scorso che ci fu veramente il patatrac e Saione era diventata una polveriera pronta ad esplodere, diciamo hanno disinnescato sicuramente queste cose perché se no si sarebbero riverificate. È forse un sintomo di una crudescenza può darsi. Ancora una rissa, ancora un pomeriggio movimentato ma soprattutto difficile a Saione. Anche in questo caso gli animi si sono accesi in via Piavia all'altezza del negozio etnico. Attorno alle 17 di venerdì pomeriggio 15 giovani, tutti di origini nigeriane, sia uomini che donne, si sono fronteggiati in una rissa. E poi di lì si è spostata fin verso l'incrocio di via Vittorio Veneto, poi sono ritornati indietro e sono svoltati verso via Montegrappa, verso le poste e è durato una decina di minuti. Sul posto sono intervenute pattuglie di polizia municipale, carabinieri e polizia. È iniziato così il fuggi-fuggi generale, oggi ovviamente resta la preoccupazione dei residenti e commercianti della zona. Questa era considerata una delle zone residenziali più belle di Arezzo. Adesso è diventata il Bronx di Arezzo. Ed è un peccato per chi, per esempio, ha fatto tanti sacrifici per comprare un appartamento, che se prima valeva 10, adesso vale 2, perché è diventata una zona che è considerata pericolosa, non più residenziale come era una volta. Grazie. Grazie. Grazie.